buongiorno sono ziliani daniel e mi occupo della progettazione zootecnica per vol system oggi vi voglio parlare del sistema innovativo brevettato variostar le tende frangivento della serie vs consentono una ventilazione controllata e priva di correnti d'aria partendo da una ventilazione minima invernale a una massima estiva grazie a tutti